Il 70% dei voli di oggi resta confermato, ma all'aeroporto di Francoforte continua lo sciopero degli addetti alla sicurezza. Incroceranno le braccia fino a mercoledì, lo hanno annunciato all'alba di stamani. Le trattative salariali con la società che gestisce il terzo scalo più grande d'Europa non hanno prodotto finora risultati. Finché riuscirò a partire non mi importa, racconta questo giovane viaggiatore, mi preoccuperò quando sarà il mio volo ad essere cancellato. Simpatizzo con chi chiede aumenti salariali, che credo siano stati finora incredibilmente bassi. Questo lunedì è prevista la cancellazione di almeno 200 voli, altrettanti sono stati annullati nelle giornate di giovedì e venerdì. Sono circa 200 gli operatori della sicurezza in sciopero, gestiscono le manovre dei velivoli sulle piste.